Se vi chiedete come potete usare tecnologie come l'intelligenza artificiale in classe, vi posso dare due o tre strumenti e materiali che forse vi siano utili. Uno è una pubblicazione uscita ieri su sito di Indire, se cercate Scientix e intelligenza artificiale sul nostro sito lo troverete di sicuro, che è una raccolta di esperienze da insegnanti per insegnante, nata da una serie di workshop che abbiamo fatto a Didacta Firenze a marzo di 2024, che vi riporta proprio approcci pratici per tutti i gradi scolastici come poter inserire anche piccole attività con tecnologie come l'intelligenza artificiale. In più vi consiglia anche di leggere il report del European Digital Educational Hub, sempre scaricabile dal nostro sito, che vi riporta un po' tutta la documentazione importante in parte anche in italiano, che dovete conoscere per sentirvi più sicure su aspetti come la privacy, il lato etico, o per avere anche lì consigli pratici come introdurre questa tecnologia per che cosa usarla. Tutto questo naturalmente in italiano, liberamente scaricabile dal nostro sito di Indire. Grazie. Grazie. Grazie.